Questa giornata è una manifestazione che ormai è giunta alla sua dodicesima edizione, è cominciata nel 2003 all'indomani della guerra del Golfo dopo che Papa Voetila fece quell'appello alla pace. Noi decidemmo insieme alla circoscrizione 3 di Saione di allora di mettere in piedi questa manifestazione che riunisse tutte le comunità del nostro comune e della nostra città. Da allora siamo andati avanti, siamo giunti alla dodicesima edizione appunto e oggi questa la dedichiamo alla memoria di Nelson Mandela. Oggi partecipano tutte le comunità che vivono ad Arezzo e sono 10 squadre, poi c'è naturalmente anche una squadra che rappresenta il comune di Arezzo e c'è una squadra arcobaleno che raggruppa persone di nazionalità differente. Quest'anno abbiamo una squadra in più, abbiamo la partecipazione di una squadra che viene da Auschwitz, sono nostri ospiti, sono ospiti del comune di Arezzo che è gemellato con Auschwitz e noi come WISP li abbiamo invitati a questa nostra manifestazione. La WISP è un ente di promozione sportiva e il mezzo che mette a disposizione allo sport, ma la vera essenza di questa manifestazione, di questa giornata è lo stare insieme, la partecipazione, la condivisione, la lotta al razzismo, l'emancipazione e lo scambio culturale che deve avvenire tra tutte le varie comunità. Grazie per la visione!